signore e signori buongiorno dal golf club di Lignano vi presentiamo ora un appartamento al piano terra con due camere e un bagno in vendita molto bello venite con me spazio esterno terrazza soggiorno con angolo cottura e si affaccia sulla terrazza e giardino camera da letto numero uno che si affaccia direttamente sul campo da golf faccio strada questo è il golf club Lignano laghetto buca due camera da letto come vedete è molto ampia in tutto l'appartamento c'è aria condizionata e riscaldamento a gas con caldaia autonoma camera da letto numero due camera da letto numero due doccia con box wc bidet e lavandino qui c'è la predisposizione per la lavatrice camera da letto numero due camera da letto numero due życia Oh oh oh, 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 oh oh Strumming my pain with her fingers Singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song I vantaggi di questa proprietà sono che è tutta piano terra, affacciata sul golf club lignano, lì dietro ci sono tre piscine a disposizione di tutti gli occupanti di questi appartamenti, aria condizionata, riscaldamento a gas, serramenti nuovi e posto macchina numerato coperto. Portoncino blindato anche già installato, quindi per un ottimo investimento e per delle ottime vacanze al golf club lignano, Alessandro Lachin per l'agenzia Lignano, ciao! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!